Quelle che stiamo vedendo ora sono immagini che spaventano, mettono paura tutti quanti noi. Sono le immagini che hanno registrato da ieri sera e soprattutto questa mattina. Vedete persone che lasciano le proprie abitazioni aiutati dagli uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, da tante persone che hanno aiutato anche i vicini proprio per aiutarli per farli uscire dalle automobili ma anche dalle case. Molti fiumi sono esondati. Cosa è accaduto? Abbiamo detto in apertura che sono caduti 400 mm di acqua, la quantità di acqua che normalmente cade in sei mesi. Dopo un periodo di siccità, un periodo in cui è piovuto poco, i terreni erano impermeabili, quindi la velocità anche dell'acqua maggiore, ma allo stesso tempo dobbiamo dire che comunque parliamo di un evento estremamente importante, nel senso che la quantità di acqua è elevata. Allora, abbiamo qui con noi Claudio Adamo, fisico dell'atmosfera Rai Medio. Grazie per essere qui. Dobbiamo dire una cosa. Noi proprio qui in studio abbiamo parlato anche dell'innanzamento della temperatura dei mari. Perché è fondamentale? Perché proprio questa energia del mar Tirreno, in questo caso anche del mar Adriatrico, fa sì che venga sprigionata una tale forza che possa poi provocare situazioni come queste. È anche da dire però che è difficile oggi poter localizzare bene l'evento su un territorio. Questo perché dobbiamo pensare che sono cambiati anche un po' tutti quei moduli. I moduli perché la temperatura registrata quest'anno, ma anche negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è nuova per voi. Assolutamente. Veniamo da un agosto caldissimo. Il mare, come dicevi, il mar Mediterraneo in generale, ma sia l'Adriatico che il Tirreno, hanno temperature circa 3 gradi in questo momento più alte rispetto alla media di questo periodo. Ma durante l'estate abbiamo visto addirittura picchi intorno ai 4-5, localmente fino a più di 5 gradi. Quindi è una situazione incredibile. Il calore, la temperatura del mare vuol dire calore nell'atmosfera, perché questo porta a una maggiore evaporazione. Quindi tantissima energia benzina per queste supercelle che si formano. E' molto difficile, impossibile localizzare esattamente dove sarà una supercella. Dicevi, 400 mm di pioggia in 6 ore. La quantità di pioggia che cade in diversi mesi, 400 mm per renderci conto, è come su ogni metro quadro, quindi come una vecchia cabina telefonica di una volta, cadono in solo 6 ore 40 cm d'acqua. Questo su tutto il territorio e tutta insieme si riversa in un fiume che poi esonda e ci porta queste incredibili immagini. Dunque una quantità di precipitazione incredibile. Le alluvioni anche all'inizio degli anni 2000, 400 mm era già tanto e cadeva in qualche giorno. Invece qui in pochissime ore, quindi la cosa dei cambiamenti climatici che gli scienziati dicono ormai da 30 anni, i giorni di pioggia diminuiranno e la quantità di pioggia rimarrà la stessa. Quindi in una notte cade tanta pioggia su un asfalto praticamente, perché il terreno così secco da mesi di assenza di precipitazione è completamente impermeabile. Dunque scorre tutta quest'acqua e si riversa appunto nel territorio senza poter essere assorbita. Nel corso della puntata di uno mattino ovviamente ci aggiorneremo e ti chiedo di rimanere anche qui per capire verso la fine proprio della puntata che cosa ci aspetta anche nel weekend. Nel frattempo abbiamo visto che è uscito il sole, quindi questa è una buona notizia perché dà la possibilità a tutti gli uomini di soccorso di poter intervenire nel miglior dei modi. Grazie Claudia, ti chiedo di rimanere qui. Allora, anzi ne approfitto proprio per una cosa perché ti chiedo, ma possiamo già prevedere la temperatura per l'inverno? Potrebbe essere freddo? Allora, le previsioni per quanto riguarda l'autunno ci dicono di un autunno ancora con temperature un po' sopra le medie, con una probabilità tra il 60 e il 70% sulla nostra penisola. Andare fino all'inverno è un po' difficile, ma comunque l'energia è un grande problema. L'energia è un problema, grazie. Perché?